signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale come vi han detto quando abbiamo parlato del secondo atto nel video della settimana scorsa o di due settimane fa dipende se questo video è uscito prima o dopo il lucca comunque come abbiamo detto nel video del secondo atto la vittoria la sconfitta sono concetti in realtà molto simili tra di loro e spesso vengono usate parallelamente e immagino che adesso vi stavate chiedendo come era possibile una storia un solo finale quindi i giocatori possono o vincere o perdere non possono fare entrambe le cose e questo è vero effettivamente ogni storia un finale il fatto però è che una storia può avere un qualsiasi numero di falsi finali e quindi un qualsiasi numero di false vittorie e false sconfitte il momento di massima tensione narrativa all'interno di una storia lo si raggiunge nel finale quando i personaggi stanno per vincere o perdere e quello il momento in cui sono più attaccati alla storia più attenti a quello che succede dopo tutto ricordatevi sempre che la narrazione nasce dal conflitto e che il conflitto raggiunge il suo massimo appunto al finale quando i personaggi stanno per vincere o per perdere è lì che la storia si fa più interessante e c'è più divertimento nel giocarla sia per i giocatori che per il master in realtà esiste però un altro momento di grande tensione narrativa che attira l'interesse del tavolo che è il colpo di scena c'è quel momento nella storia in cui avviene qualcosa che sovverte l'aspettativa dei giocatori ma va da sé che se il finale che è il momento di massima tensione può essere messo solo alla fine della storia il colpo di scena non ha questa limitazione colpo di scena è semplicemente un momento in cui qualcosa che si pensava dovesse succedere in realtà non succede non ci vuole un abaco a mettere insieme queste due cose e creare il concetto di falso finale cioè una scena che abbia la stessa tensione di una scena finale ma che in realtà possa essere messa in qualunque punto della storia durante un falso finale gli eventi cominceranno a succedere come se la storia si stesse avviando verso il suo naturale finale gli eroi completeranno la loro missione magari riceveranno anche la loro ricompensa i png reagiranno come se la storia stesse per concludersi ma improvvisamente succederà qualcosa che stabilirà chiaramente che no la storia non è finita qui gli eroi hanno ancora altre avventure da compiere a questo punto va da sé che esistono due tipi di falso finale la falsa vittoria e la falsa sconfitta durante una falsa vittoria ai giocatori verrà data l'impressione che i loro personaggi abbiano vinto e che la storia si sta per risolvere in maniera positiva per loro ovviamente in quel momento verrà introdotto un qualche tipo di ribaltamento che farà capire loro che no quella che hanno ottenuto è sì magari una piccola vittoria un piccolo avanzamento ma la storia non sta assolutamente per finire e hanno anzi le cose per loro adesso sono più complicate di quelle che erano prima una delle classiche incarnazioni della falsa vittoria nel fantasy è quella di far percorrere tutto il dungeon agli avventurieri fargli trovare il classico tesoro in fondo al dungeon e mentre loro sono intenti a spartirsi tra di loro il tesoro far entrare altri png ostili nel dungeon che gli sbarriano l'uscita i personaggi sono nel fondo i giocatori pensavano che la quest fosse finita positivamente che loro adesso tenta scascare il tesoro ma in realtà no dovranno ripercorrere tutto il dungeon in senso inverso sconfiggendo nuovamente nemici in ogni stanza perché è arrivata nuova gente se siete di quei master a cui piace disegnare le mappe degli ambienti o state portando avanti qualche tipo di campagna magari con d20 system o qualche altro gioco che ha una griglia tattica importante questo è anche un ottimo modo per risparmiare tempo in realtà voi dovete disegnare semplicemente una mappa e in quella mappa ci state facendo due dungeon ovviamente durante la falsa sconfitta succede esattamente l'opposto ai personaggi viene presentata una situazione che sembra di totale collasso i giocatori pensano di aver fallito la loro missione ma in realtà quello che è successo non è altro che un inconveniente minore o potrebbe anche generare un'altra serie di circostanze e alla fine rivelarsi in realtà qualcosa di positivo per i personaggi continuando sul banalità fantasy un altro archetipo fondamentale della falsa sconfitta nel fantasy è i personaggi vengono sconfitti dai loro nemici e buttati nelle segrete del castello del malvagio barone sembra che la avventura sia finita tra pochi giorni verranno messi a morte e quello che è ma in realtà all'interno delle segrete trovano qualche altro png anche lui nemico del barone con cui potranno unire le forze evadere e adesso non solo hanno un nuovo alleato ma sono con il loro alleato all'interno alla fortezza del malvagio barone quindi in realtà quella che è partita come una situazione molto negativa per loro si è rivelata una serie di vantaggi la falsa vittoria e la falsa sconfitta sono molto tipiche della struttura narrativa in tre atti quello di cui stiamo adesso parlando nei video sulle fondamentali del dungeon e all'interno della struttura in tre atti normalmente sono usate durante il secondo atto in coppie alternate la loro collocazione naturale nella seconda parte del secondo atto in quanto è la parte dell'atto in cui la tensione deve essere maggiore classicamente vengono usate come climax del secondo atto e come secondo plot point come detto si cerca di fare in modo che siano sempre utilizzate in maniera alternata l'una con l'altra ad esempio se il climax è una falsa sconfitta il plot point sarà una falsa vittoria e viceversa in questo modo i giocatori verranno tenuti su una sorta di montagna russa emozionale che passerà dalla felicità per la vittoria inaspettata alla delusione per la sconfitta inaspettata o dalla delusione alla felicità nel caso siano invertite non esiste un ordine corretto in cui inserirle può venire indifferentemente prima la falsa vittoria o la falsa sconfitta almeno per quanto riguarda lo schema e gli atti ogni storia è diversa il master deve anche sapersi regolare se nella storia che sta raccontando nel gioco che sta usando col gruppo a cui la sta raccontando sia meglio che venga prima la falsa vittoria o prima la falsa sconfitta fate sempre in modo che ci siano entrambe alla fine per fare un esempio concreto diciamo che i personaggi sono un gruppo di supereroi durante il climax del secondo atto hanno uno scontro con il super cattivo che è la loro nemesi e riescono a sconfiggerlo catturarlo arrestarlo e portarlo nella prigione della città vengono complimentati dal commissario della polizia la gente felice i giornali fanno i titoli ma si scopre che quello non era il vero super cattivo ma il suo clone robot si veramente golden age questo comunque era il suo clone robot che lui aveva costruito per fare in modo che venisse arrestato e messo nel carcere perché da lì poteva fare evadere un altro super cattivo e poi i due super cattivi si sarebbero uniti per compiere malefatte ancora più gravi ovviamente sia la polizia che la popolazione della città non saranno affatto contenti della cosa probabilmente daranno la colpa agli eroi e nel ribaltamento del secondo plot point gli eroi che adesso sono avversati dalla polizia della città avranno la possibilità di confrontarsi con entrambi i super cattivi che assieme sono apparentemente invincibili ma gli eroi potrebbero scoprire che in realtà i due non vanno così d'accordo e quindi possono sconfiggerli facilmente mettendoli uno contro l'altro in nessuno di questi due casi la storia finisce veramente all'inizio sembra che gli eroi abbiano vinto arrestando il cattivo ma in realtà non hanno fatto altro che facilitare i suoi piani quindi la falsa vittoria e nel secondo caso sembra che gli eroi abbiano perso perché i due cattivi assieme sono invincibili ma in realtà i due assieme diventano ancora più vulnerabili quindi falsa sconfitta ovviamente poi il cattivo varrà sconfitto per davvero durante il climax del terzo atto e darà poi origine al finale della storia con la vittoria dei supereroi si spera a meno che non sia una roba della DC diciamo che questo è un trucchetto che dovete avere nella vostra borsa degli attrezzi del game master e che serve per aumentare la tensione durante una quest potete usarlo o in una quest già strutturata appunto una struttura in tre atti sapete già che nel climax avverrà una cosa come plot point ne avverrà un'altra ma non è neanche troppo difficile utilizzarlo in corso d'opera se vedete che la quest si sta piattendo che i giocatori sono confusi potete inserire un falso finale per movimentare un po le cose diciamo comunque che per questa settimana è tutto in realtà non so quale sarà il video della settimana prossima perché non so se questo video c'era prima o dopo lo speciale per i lucca comics se ho avuto il tempo di montare il video di lucca comics a ritorno a lucca vuol dire che andremo avanti con le sedie regolari se no settimana prossima vi vedrete i lucca comics lo scoprirò anch'io in realtà sto parlando al me stesso del futuro è veramente strano essere uno youtuber in entrambi i casi se avete domande dubbi o perplessità scrivete qua sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi e schiacciate sul tasto della campanella io come sempre sono il master kai e noi ci vediamo in un prossimo video ciao